Vivarini ce la fa dire che il Teramo non si deve più salvare adesso? Penso che questo obiettivo l'abbiamo raggiunto, quindi l'abbiamo messo da parte. Adesso abbiamo altri obiettivi, consolidare i play-off, che è una cosa importante. Già questo è un obiettivo veramente alto per quello che ci avevamo in mente all'inizio dell'anno. Quindi dobbiamo passare queste sei partite, le dobbiamo affrontare nel miglior modo possibile, come abbiamo sempre fatto. Allora diamoci un altro obiettivo, cioè quello di fare un punto più dell'Ascoli in cinque partite. Non mi sembra una impresa titanica in questo momento. Ma questo per chi pensa che è un campionato facile. Il campionato, io l'ho detto, lo ripeto, è un campionato molto equilibrato. E ogni turno ci sono delle sorprese, come quello dell'Ascoli contro il Forlì. Quindi noi dobbiamo pensare partita per partita. A me i discorsi di arrivare adesso a fare le tabelle, arrivare a un punto prima dell'Ascoli, guadagnare un punto dall'Ascoli, sono discorsi che si possono fare, però non mi interessano. A me mi interessa adesso cercare di preparare al meglio il tutto cuoio. Ecco, a proposito della partita con il tutto cuoio, adesso è impossibile pensare che una squadra possa deconcentrarsi o sottovalutare l'impegno, stando prima in classifica con tre punti di vantaggio sulla seconda in questa fase del campionato. Qual è allora la difficoltà maggiore? Sì, sono d'accordo, anche perché questa squadra, merito proprio dei ragazzi, riescono sempre a mantenere alta la concentrazione e a non abbassare mai la guardia. È una squadra che lavora sempre con attenzione, con un grande piglio su ogni situazione che curiamo. Quindi questo non è il problema. Il problema è invece che il tutto cuoio è una squadra di tutto rispetto. C'è un allenatore molto bravo che stava lì a Reggio a vedere la partita, quindi penso che starà studiando tutte le mosse per cercare di non farci giocare. Loro già all'andata sono stati molto bravi a impigliarci a centrocampo. Io ho visto le ultime due partite che hanno vinto, l'hanno vinto proprio non facendo giocare le squadre avversari. Quindi mi aspetterò un grande pressing, delle marcature uomo, degli spazi molto ristretti per i nostri attaccanti. Quindi queste saranno le difficoltà ma speriamo di riuscire a dargli parecchi problemi anche noi a loro.